Acquisizione di atti negli uffici comunali nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla Procura Iteramo sul centralissimo Palazzo Pompetti. Nel corso dell'attività di indagine delegata a Polizia Stradale, Guardia di Finanza e gli investigatori hanno acquisito tutta una serie di documenti sia nell'ufficio del primo cittadino che negli uffici tecnici del settore lavori pubblici, ospitati attualmente al Parco della Scienza, visionando anche alcuni computer. Attività che è andata avanti per tutta la mattinata di ieri, in contemporanea con un secondo sopralluogo sul Palazzo Pompetti da parte dell'ingegnere nominato dalla Procura come consulente. L'inchiesta a firma del PM Davide Rosati mira a fare chiarezza su quanto avvenuto dal terremoto in poi, con il palazzo dichiarato inagibile in classe E a due anni dal sisma e dopo una revisione della scheda Aedes. Il fascicolo era stato aperto all'indomani dei controlli della Polizia Municipale sul mancato rispetto da parte dei commercianti in cui i negozi si trovano al piano terra dell'ordinanza di sgombero firmata a settembre dal sindaco Gian Guido Alberto, dopo che il palazzo era stato dichiarato inagibile, ma successivamente interessato anche l'iter che ha portato alla valutazione dei danni e alla classificazione in E. Intanto nei giorni scorsi, dopo la realizzazione della prima parte dei lavori di messi in sicurezza sull'immobile realizzati dal comune di pari passo con la parte privata, il sindaco ha firmato la revoca parziale dell'ordinanza di sgombero per i negozi. Gli investigatori hanno sequestrato documenti tal sisma del 2009 all'ordinanza di revoca dell'8 dicembre scorso e non solo, hanno anche chiesto la documentazione relativa all'installazione di gazebo sotto i portici per una festa privata avvenuta qualche settimana fa. Nel mirino degli investigatori ci sono anche le perizie asseverate con cui 5 commercianti hanno ottenuto venerdì la revoca dell'evacuazione.